Class Action, riprendiamoci il maltolto, è il titolo dell'incontro promosso da Confartigianato con il patrocinio della Transport Service, nel quale organizza nel territorio assemblee informative dedicate ai dirigenti del settore. Un tema centrale che è stato affrontato quest'oggi è quello della Class Action, che cos'è? È una richiesta collettiva per il danno provocato dalle imprese di costruzione degli autoveicoli pesanti nei confronti degli acquirenti autotrasportatori. Si tratta di quantificare il danno e di richiedere alle stesse case costruttrici l'indenizzo. L'indenizzo dovrebbe essere, secondo i nostri calcoli, non meno del 15% del valore del veicolo pagato. È un'operazione internazionale, europea principalmente, la sede del Tribunale è quella di Amsterdam, il fondo che finanzia tutta l'operazione è un fondo inglese, mentre invece le associazioni che aderiscono a questo riconoscimento del danno collettivo sono le maggiori associazioni dell'autotrasporto di merci in conto terzi italiane. Questo fondo ha già incardinato la causa sul foro di Amsterdam, avendo raccolto l'adesione di migliaia di imprese europee e presenterà a breve il primo pacchetto di rivendicazioni. Nella provincia di Pesaro e Urbino sono interessate le oltre 1.100 aziende del trasporto e della logistica, che occupano circa 3.500 addetti con altrettanti tir. Di questi, quasi 2.000 automezzi potrebbero rientrare nell'azione risarcitoria. Allora, la Confartigianato ovviamente sta organizzando una serie di assemblee informative su tematiche che riguardano praticamente dei temi fondamentali. Di che cosa si tratta? Ma noi abbiamo un'avvertenza aperta con il Governo, quindi parliamo di contributi per il settore per mantenere la competitività delle imprese che sono attaccate dai vettori esteri. Poi ovviamente stiamo cercando di portare avanti una class action europea. Questa volta ci siamo organizzati molto bene perché abbiamo trovato uno studio di legali olandesi che stanno portando avanti questa class action contro i costruttori dei tir e che hanno fatto cartello e che hanno aumentato i prezzi del 15% dal 1997 al 2011 e praticamente ci hanno messo in grandi difficoltà. Con questa class action intendiamo recuperare questo maggiore costo ed è possibile farlo da tutte le imprese, per tutte le imprese, al di là se sono trasportatori o artigiani, imprenditori quindi anche del settore industriale, per tutti i veicoli acquistati nuovi ma anche per i veicoli usati in buono stato ovviamente e poi per i veicoli importati. Quindi è un'azione importante che noi stiamo facendo e per questo stiamo facendo gli incontri sul territorio. Un'altra azione molto forte e interessante è quella delle deduzioni forfettarie. siamo riusciti a convincere il governo e il ministro Toninelli a stanziare ulteriori risorse. C'è uno stanziamento di 26,4 milioni che permetterà di recuperare parecchio delle deduzioni che erano state ridotte drasticamente da 51 a 38 euro e speriamo di poterle riportare a 45 euro, insomma circa 45-46. Quindi attendiamo adesso la circolare del ministero delle finanze. Come associazioni quali progetti state portando avanti? Ma noi come associazione sul territorio ci stiamo battendo per il completamento delle infrastrutture viarie che ci sono delle carenze bestiali insomma e poi portiamo avanti i progetti di formazione della categoria. Stiamo diciamo mettendo in pista corsi non solo per l'accesso al mercato alla professione delle imprese ma anche corsi di manageriali. Insomma abbiamo un'iniziativa con l'Università di Urbino sui contratti di trasporto, sul diciamo così gestione dei contenziosi e poi soprattutto sulla gestione dei verbali ovvero del contenzioso con la polizia stradale con gli enti. Quindi un'azione per trasferire conoscenze alle imprese, ai loro collaboratori in modo tale di essere sempre più organizzati. Poi abbiamo strutturato una bella società di servizi, la Transport Service, che eroga servizi importanti per la categoria consentendo enormi vantaggi nell'acquisto dei gasoli, dei pedaggi autostradali, delle assicurazioni, dei traghetti, insomma dei trafori. Quindi una società alla portata delle piccole imprese che è un punto di forza notevole. Un altro argomento fondamentale di varie tematiche che sono state affrontate questa sera è anche il costo dell'esercizio. Che cosa comporta? Il costo dell'esercizio comporta che con l'aumento del gasolio è aumentato tantissimo ultimamente e il costo dell'esercizio si è lievitato. Già i margini di guadagno erano molto ristretti, quindi ci sono ancora chiusa ancora la forbice. Poi oltretutto non solo quello ma c'è il fattore discorso del pagamento. Il pagamento che non si può più sopportare i pagamenti lunghi perché le imprese soffrono, i costi sono altissimi e fare banca ai imprenditori più grandi di noi è una cosa un poco sgradevole. La gente, i colleghi chiedono tutti il pagamento a 30 giorni perché noi praticamente paghiamo tutto cash, il gasolio devi pagare, le autostrade paghi subito e quindi i pagamenti a 60-90 giorni già diventa una cosa di difficoltà. Specialmente ultimamente con la crisi che morde sempre di più e gente che deve fare dei investimenti, rinnovare il parco veicolare che tutti chiedono il veicolo più ecologico ma il veicolo più ecologico con questi guadagni, con questo costo del gasolio e con tutto quello che stiamo soffrendo anche per i pagamenti non possiamo più sostenere. Diciamo queste attività e chiuderanno spero meno possibile ma so che tanti hanno detto che con la fine dell'anno cessano l'attività perché non riescono più ad andare avanti. Ecco, però il gasolio è la prima materia che a noi praticamente ci sta rovinando. Con Fartigianato sottolinea che l'autotrasporto pesarese è la prima provincia della regione e vede la presenza di importanti consorsi e cooperative ben organizzati con centri di servizio. Con parcheggi, distributori, lavaggi e punti ristoro che fanno della provincia una delle più attrezzate e ben organizzate. Allora Presidente, com'è l'andamento dei mercati soprattutto delle imprese attualmente? Diciamo che in questo momento abbiamo dei piccoli e deboli segnali positivi e quindi siamo favorevolmente contenti. Le imprese e gli artigiani stanno lavorando con la Confartigianato al loro fianco e soprattutto anche con le aziende dei trasporti che in questo caso qui nella provincia contiamo più di mille imprese nostre associate. Stiamo facendo un discreto lavoro e abbiamo anche notevoli risultati. L'elettronica come in termini tecnici dice P2B, quindi fra imprese compartitaiva, ma c'è l'opera di fatturazione elettronica anche fra imprenditore e privato. Oggi si utilizza la fatturazione elettronica a chi è destinata? Allora dal primo gennaio 2019 la fatturazione elettronica diventa un obbligo. Tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, perché c'è una esenzione solo per chi produce o trasmette servizi con l'estero, devono adoperarsi di questo nuovo adempimento, quindi trasmettere le fatturazioni tramite un sistema digitale. Quindi dal primo gennaio 2019, salvo ripensamenti dell'ultima ora, tutti gli imprenditori dovranno adempiere questo nuovo obbligo. Quali sono i metodi di trasmissione della fattura? I metodi sono la predisposizione di fai telematici con dei formati prestabiliti. Diciamo che sta il nostro compito della Confartigenato trovare dei sistemi che siano adatti alle varie tipologie dei nostri imprenditori, dalle imprese più o meno strutturate, quindi quelle che si potrebbero dotare di un'app personale per svolgere questi servizi, oppure anche un servizio di affiancamento e anche di predisporre del documento obbligatorio dal primo gennaio 2019. C'è un metodo in particolare di comunicazione per spiegare come spedire la fattura? Adesso noi in questo momento stiamo facendo degli incontri sul territorio con i nostri artigiani per sensibilizzare la problematica a cui sono chiamati ad adempiere. Nello stesso tempo noi dovremo analizzare le varie tipologie di imprenditori, quelli che sono come dicevo prima più o meno strutturati e ad ognuno di loro trovare una soluzione ad hoc per quella che è la loro impostazione e quello che è il loro servizio. Grazie per la visione!